Il pocherissimo ai noi è servito. La sconfitta di Empoli ha di fatto acuito almeno sul piano dei risultati la crisi del Gesan Lemura, che mai negli ultimi anni aveva avuto abbrivio così complicato. Vero che il calendario è stato impietoso e le attenuanti non mancano, ma francamente c'eravamo abituati a ben altro andazzo. Il riveo del match di sabato sera contro la Dinamo Sassari, colpita dal Covid-19, forse giunge a puntino e consentirà a Iurlaro di plasmare al meglio una squadra che merita e ha potenziale migliore dell'attuale classifica. Una brutta classifica che vede Lucca relegata al penultimo posto, con soli due punti frutto della vittoria maturata nella giornata inaugurale sul parquet delle Patavine del San Martino di Lupari, più di un mese fa, lo scorso 4 ottobre. Certo che la clamorosa fuga mistica della DJ Williams e le difficoltà di arrivare in Italia di Linnea Harper ha complicato e non poco il lavoro di Iurlaro. Dopo il promettente debutto contro la Rayer Venezia, la 25enne di Chicago è stata parecchio altalenante nella gara di Empoli, dove ha giocato ai suoi livelli solo nel secondo quarto. La stessa Tanstal deve ancora inserirsi al meglio nel gioco di squadra e di un roster, ricordiamo, ampiamente rivisitato. Così le note liete sono giunte finora più che altro dalle italiane e non a caso il capitano Laura Spriafico è stata gratificata con la maglia azzurra. Il resto è storia ancora da scrivere. In realtà alla ripresa del campionato ci sarà subito la proibitiva trasferta di Schio, ma successivamente il calendario sarà più abbordabile e dovrebbe consentire alla squadra del presidente Cavallo di recuperare una posizione più consona al suo valore e al suo blasone.